ma lavora ora cosa lei no perché lei deve essere miliardario quello che guadagna di più in questa cacchio di nave anche più di me andiamo anche perché stiamo già facendo di due cosa qua cosa che c'è stacqua ma operazione acqua in fiore no già fatto questo questo tende un'imboscata alle navi set death operazione morte improvviso attacco jack el ok però mi sa che quella lì è una delle ultime cose cosabili allora ci sei contento sei contento ci facciamo questa ok ok operazione miniera oscura ecco la zona operativa questa è vesta 3 una colonia che fornisce materie prime per ricostruire la flotta il carico di oggi non è partito intorno alle 18 si sono persi i contatti e il comando vesta non risponde da allora che misure di sicurezza solo automatiche robot di guardia dobbiamo capire cos'è successo e fare subito rapporto all'ammiraglio ricognizione speciale questa volta ci va di lusso aspettiamo a dirlo che succede l'asteroide non dovrebbe essere qui è uscito completamente dalla sua orbita c'è una scia radioattiva dove conduce verso il sole quanto vicino appena fuori dai limiti operativi la retribution può farcela sempre che le riparazioni reggano io penso di sì proviamoci capitano ok sono d'accordo saltiamo teniamoci forte la nave pronti a saltare allarmi collisione motori accesi nave pronta tutto ok andiamo ok salto in tre due uno stato integrità strutturale bassa reggerà radiazioni in aumento avanti tutta pronti all'uscita salto in tre due uno filtri uv polarizzazione vetri roger margine d'errore bassissimo ottimo dov'è l'asteroide gator le coordinate sono corrette vesta 3 dovrebbe essere proprio la eguagliare velocità lo stiamo seguendo lavoro eccellente gator complimenti a tutti boz voglio omare la sua squadra sul ponte di volo gator prepara un raven ti affido la plancia salt come è una bagnarola sta nave però è come ti senti raider qual è il conteggio ufficiale salt di cosa l'attacco dell'olimpus quante vittime 16 come ha detto meg non è mai facile torniamo al lavoro andiamo quante riparazioni vediamo se c'è ancora quel giovine uomo la che fa le cose no dove sta ma è l'hanno licenziato dove che mancava soltanto una gara alla fine però andiamo non mi metta fretta melodia molto bene mi piace ah ma è proprio una granata tattica ma che storia va tutto bene signore grazie come al solito non mi delude mai lei comandante griff o come cacchio si chiama dogacchio ah salve è perché se non ci sono io se non ci sono io ad aprire le porte qua le missioni ciao eravamo in tempo che eravamo ancora sotto ai comunisti non siamo scienziati vuoi portare il capo ma anche no gibson che fa un pilota di caccia barbuto non so si radia al suolo vabbè ok lei si che mi piace al mio stesso ecco allora ah qua io ne dico anch'io una sale sa quale colmo per uno shampoo per capelli eh eh sapete sapete il sera oh e il sera un prodotto testato ah ah eh salve salve siamo di fretta riposo forzato partenza tra 60 secondi che c'è ho tirato una puzza perché avete annusato salve ma chi lo dice salve oh arrivo tenente solter procediamo propulsori in 3 2 1 positivo saremo a portata in 30 secondi cercare sos su tutte le frequenze ok radio accesa nessun marine è mai arrivato così vicino un altro record di infranto siamo una bella squadra io e lei sta zitto cash è un ordine la rotazione è stabile dura all'incirca un minuto ma 100 volte il normale controlliamo quella al sole novecento gradi al sole porca puttana portaci al riparo sold roger c'è un segnale non possono esserci superstiti non è detto la struttura è andata torniamo alla base avvisiamo reins troviamo un posto per atterrare lo sconsiglio vivamente sergente si prenda le sue responsabilità ora è il capitano allora scendiamo dobbiamo salvarlo agli ordini c'è un hangar più avanti possiamo atterrare all'interno all'ombra bene roger in discesa dopo di lei che è sta cosa? ah ok colleghiamoci datemi il casco quanto mi sta bene mai come nei film horror dimu andiamo a salvare tutti è il nostro ingresso porca puttana l'energia va e viene in base al sole i generatori sono andati la luce può freggiarci all'istante se il prossimo ciclo notturno inizierà a momenti dobbiamo muoversi all'ombra è l'unico modo solterà ragione i pannelli solari ci daranno copertura ecco ci siamo pronti andiamo fuga via dobbiamo scappare fra un po' è giorno allora sta andando giusto si aiuto andiamo sto rallentando il gruppo dentro 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 wow i generatori non mantengono la carica ahhh occhi aperti non possiamo sbagliare è pazzesco avete sentito? un'altra camminata ecco l'origine del segnale non ha fatto in tempo eh no è stato cotto il pontino là c'è una grossa struttura dobbiamo arrivare aiuto facciamo presto perché non si è scottata anche lei ecco andiamo fuga facciamo un piccolo saltino olle aiuto perché solo io ho subito i colpi no dentro wow stavo andando in fiamme capitano flambè i portelloni funzionano ancora servono per l'emergenza e questa lo è di sicuro proseguiamo ormai ci ho fatto il callo c'è sbircio e poi sapete cosa faccio? ci butto una granata cucù ah oh 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 aiuto quale malefica maleficenza è la radio permesso ma in realtà avete detto che non ci bisogna non ci dobbiamo non ci dobbiamo dividere perché come nei film horror poi uno va al cimitero uno va alla cripta l'altro va dal macellaio e poi guarda che roba ultimo giro brutto modo di andarsene europa pale ale è roba di qualità non aveva via di scappo qualcosa ha spinto questo affare o forse si è mosso da solo Kashima va a cercare altrove lo voglio io questa molto shit ah ma scusa c'era qua l'acqua vabbè andiamo a cercare altrove andiamo che c'è sta qua? io apro armeria scoperta sbudubum salve a tutti qua si balla che manco non lo so apriamo qua non c'è niente si sono portati via quasi tutto così pare ehi capitano ho trovato una cosetta per lei mappero che si tratta? dobbiamo aiutarci a vicenda no? lei è canadese prendo io ecco a proposito la sua seconda in comando eh sì disponibile sai una cosa? penso di sì buono sapersi dobbiamo aiutarci a vicenda ehi 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 ma perché mi ha lasciato giù? vabbè le tenga le mani levate da dosso che è tutta roba mia salve cappelli caschi quello di Hado quello di Borderland quello di Girs of War vado avanti io e vado avanti io mi becco io gli alien va bene ok ci mancano solo quelli oh andiamo di qua mi seguo Kashima sono qua e andiamo non ci dovrebbe essere pericolo a parte occhio salve occhio i fili che qua i cablaggi li hanno fatti male infatti li hanno pagati in poco e anche in nero sì spostate i corpi arrivo salve forse Ethan aveva ragione parli degli incidenti poi robot che si siano rivoltati contro questa gente non possono farlo vero? restiamo respiratori oh non ci preoccupi con calma andiamo siamo arrivati a Doom che cos'è sta cosa? state calmi con calma buoni dormite jumpscare muori ah Cash perché Kashima va bene molto bene molto bene ok mia prestigio è cosa? te do una mano ci sarà qualcuno da salvare eh speriamo li troveremo ok ok ah not ah 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 Grazie a tutti.